E' stato uno sciopero molto partecipato, quello degli insegnanti in Italia, contro il provvedimento del governo che interviene. Questa è la motivazione con decreto su materie come salario e carriera che sono di competenza esclusiva delle parti. Pensavamo che dopo la pandemia ci sarebbe stato un atteggiamento diverso da parte dei governi nei confronti della scuola. Invece non è così, è ancora una spesa da tagliare mentre si aumenta la spesa militare, penso che questo sia ancora più grave. Nella forma e nella sostanza non funziona niente in questo decreto legge, è una presa in giro e basta, la scuola non vuole essere più presa in giro. L'anno scolastico sta finendo ma la mobilitazione, affermano gli interessati, è appena iniziata. Contrario allo sciopero il sindacato ANP che rappresenta i presidi.